Il miracolo eucaristico di Siena. Tutto comincia il 14 agosto 1730, quando ladri restati per sempre ignoti rubano nella chiesa di San Francesco a Siena, ufficiata dai minori conventuali, un apisside contenente 351 ostie consacrate. Scoperto il furto, lo sgomento è tale che la città, con decisione quasi senza precedenti, decide di sospendere persino l'amatissimo palio dell'assunta. Tre giorni dopo, il 17 agosto, nella cassetta per le elemosine della collegiata di Santa Maria in Provenzano, le particole vengono tutte ritrovate. Riportate con solenne processione nella chiesa da dove erano state asportate, non vennero consumate come pure prescriveva il diritto canonico perché i fedeli espressero il desiderio di adorarle a fini riparaturi. Ma, pare, anche perché essendo state introdotte in una cassetta per le elemosine, che si apriva una sola volta all'anno è piena, dunque, di polvere e ragnate e le ragioni igieniche sconsigliavano di comunicarsi con esse, malgrado i tentativi di ripulirle. Sta di fatto che, col passare del tempo, vennero in qualche modo dimenticate e solo quasi 50 anni dopo si scoprì che erano rimasti assolutamente intatte sin dall'aspetto, non avendo nemmeno assunto una colorazione diversa da quando erano state fabbricate, impiegando, tra l'altro, un ferro particolare che prova che le ostie in questione sono proprio quelle rubate nel 1730. Dal furto sono passati quasi tre secoli e le particole sono ancora fresche come all'inizio nell'artistica pisside della Basilica di San Francesco in Siena. Da 351 che erano si sono ridotte a 223. Ma non perché quelle che mancano siano state distrutte dal tempo ma perché, fra le tante prove eseguite, ci fu anche il comunicare con esse delle persone che ne saggiassero il gusto. Che è il risultato, esso pure, non alterato. Ovviamente, non ci si è limitati a questo tipo di esperimento pragmatico. Altre ricognizioni vennero effettuate nel 1789, volute dall'arcivescovo Tiberio Borghese, nel 1889, nel 1815, nel 1854 e il 10 giugno 1914, quest'ultima per iniziativa di Papa Pio X. La relazione conclusiva afferma che le particole erano di apparenza ben conservate e senza alcun segno di alterazione o ammuffimento, ne guasta per alterazione di tarli o di altri parassiti, propri dei prodotti farinacei. 3. Nella stessa relazione, il professor Siro Grimaldi dell'Università di Siena dichiara. Le particole costituiscono, un fenomeno singolare, palpitante di attualità, che inverte le leggi naturali della conservazione della materia organica. È un fatto unico conservato negli giornali della scienza. 4. Tra l'altro, nel 1914, a cura di un chimico stimatissimo, il professor Siro Grimaldi, si procedette a un serie di analisi e di esami con i mezzi messi a disposizione della scienza. La quale, in questo genere di esperimenti, non è molto mutata da allora, visto che ciò che c'era da determinare era molto semplice. Le osti erano della consueta farina azima di frumento. Avevano subito qualche alterazione. Nella sua relazione Grimaldi scriveva di avere trovato le particole, dopo i 184 anni trascorsi allora, lucide e lisce, con bordi netti, non sfrangiati né smussati. Prive di atari, tarli, di ragnatelle, di muffe e di qualsiasi altro parassita animale e vegetale proprio di quella farina di frumento con cui sono composte. Eppure, nulla di più fragile ed il suscettibile di alterazione di tainuiosti e di pane azimo. Per loro natura sono indiscutibilmente il massimo dell'alterabilità. La farina di grano è il miglior terreno di coltura dei microrganismi, dei parassiti animali e vegetali, della fermentazione lattica e putrida, continuava lo specialista, le particole di siena sono pertanto in perfetto stato di conservazione, contro ogni legge fisica e chimica e nonostante le condizioni del tutto sfavorevoli in cui si sono venute a trovare. Un fenomeno assolutamente anormale. Le leggi della natura si sono invertite. Il vetro dell'episside in cui sono conservate è diventato sede di muffe, mentre la farina si è rivelata più refrattaria del cristallo. Stando, in effetti, non solo alla scienza di tutti i chimici, ma anche all'esperienza concreta, più volte si fecero, a Siena, controprove, mettendo in un recipiente accanto alle ostie prodigiose altre non consacrate e appena fatte. In breve furono tutte alterate e poi sbriciolate dal tempo, già dopo sei mesi la farina azima si rovina gravemente e, nel giro massimo di un paio d'anni, si riduce a poltiglia e poi a polvere. Per le ostie di Siena, il tempo non ha provocato neppure un ingiallimento, malgrado non la mai sia stato fatto per assicurare una custodia protetta dagli agenti atmosferici o dai gerbi ulteriori portati dal toccarle infinite volte con le mani. Non è dunque a caso se tutti coloro che si sono seriamente informati sul caso è tra essi molti papi, ma anche molti scienziati non hanno esitato a parlare di evidente prodigio. Quello di Siena è un unicum straordinario, pur tra i numerosi miracoli eucaristici avvenuti nei secoli. Un caso di conservazione della materia che sfida ogni legge naturale. Segno, dunque, di quella trasformazione eucaristica della materia in cui la fede crede, malgrado sfidi anch'essa ogni scienza.